Il Parco Giochi di Via Filangeri riapre le sue porte oggi al pubblico a Nocera Inferiore, dopo i lavori di riqualificazione che hanno reso l'area ancora più accogliente e sicura per i bambini e le loro famiglie. Un momento importante per la comunità che potrà finalmente tornare a godere di uno spazio dedicato al divertimento e al relax. Per celebrare l'evento l'amministrazione ha organizzato una serata speciale con intrattenimento musicale e uno spettacolo delle bolle di sapone che farà la gioia dei più piccoli. Abbiamo messo in campo questa riapertura con un impegno dei lavori pubblici che hanno completato un attimo di riassetto della struttura che era ferma perché non era stata assegnata all'ultimo avviso rivolto alle associazioni del terzo settore. Abbiamo voluto ovviamente riprenderlo e riaprirlo per dotare quel quartiere di una valvola di sfogo per le tante famiglie, tanti bambini e per le tante persone anziane che soprattutto nel periodo estivo hanno bisogno di un polmone verde. A giorni riapriremo il parco giochi di Via Filangiri che penso che è un altro passo per i quartieri così come abbiamo fatto col chiosco di Via Cicalesi e con le altre iniziative, il parco giochi per per il quale abbiamo ottenuto il finanziamento su Montevescovato, sono tante iniziative che realizziamo nei quartieri che non vogliamo lasciare soli. Ma le iniziative non finiscono qui, infatti il weekend sarà l'insegna dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Nocera Inferiore. Domani in Piazzetta Cicalesi nel cuore del Rione si esibiranno i Caffeina Band e Peppe Iodice per arrietare la serata dei presenti a son di musica e risate. Chiaramente siamo stati a fianco della parrocchia di San Giovanni, avremo sabato questa iniziativa con un concerto con un artista Peppe Iodice in Piazza Cicalesi, domenica ci sarà la processione di San Giovanni, è un modo per stare fra le persone e cercare di alleviare con queste iniziative e anche introdurci al periodo estivo dove le persone amano un po' di più, hanno la possibilità un po' di più di stare per strada e noi cerchiamo di accoglierli nel migliore dei modi. Grazie a tutti.